bello youtube belli social bello tutto però mi sono un po stancato bisogno di schiarirmi un po le idee e mi stai dicendo davvero che non ho ancora capito ma non ci credo sono le tre tre un quarto sono appena arrivato a bergamo è stato un viaggio un po particolare abbastanza scomodo però ne ho fatto quindi per una una bellissima sessione di street photography e qualche altro paio di video ci sta si va bene che mi piace berlino e mi piace ancora di più fare street a berlino però stavolta ci sono andato con un brand so 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 finalmente a berlino so 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 puoi ti chiamo tra un minuto una foto fighissima da fare arrivo aspetta 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.